Oh, ecco il panettone. Fa sempre Natale, eh? No, a me piace il tartufone. Con il cioccolato, vedi? Mamma mia, quanto è buono! Ma va! Poi lo apri e è tutto diverso dall'immagine della confezione. E che delusione! E tutti questi prodotti belli confezionati pronti per essere acquistati? E non me lo sarei mai aspettato in un supermercato. Oh, ma fammi capì. Ma ora tu ti credi di essere bello come una foto che ti sei messo sul profilo di Facebook? Oh, mo sì che sei venuto bene! Ma metteci questa su Facebook, eh no? Eh!